È una lezione che entra nel corso di Educare alla Pace e allo stesso tempo è una lezione per gli studenti della Scuola Nazionale di Formazione Sociopolitica Giorgio Lapira. È un appuntamento oramai immancabile nel nostro percorso, soprattutto per quanto riguarda i temi. La Scuola Lapira si occupa di guerra e pace, per cui la reazione odierna del professor Zamagni è perfetta all'interno del quadro dei ragionamenti e delle riflessioni che vogliamo fare in questo anno. Quindi lo ringrazio ancora, lo saluto con molto affetto e do la parola a Gennaro Puccio per la presentazione. Bene, grazie Luigi, grazie Stefano per essere presente sempre a questo nostro appuntamento annuale. La lezione di oggi sarà proprio su Europa, economia di guerra o economia di pace, che si aggiunge alle altre lezioni del corso Educare alla Pace, dal titolo Pace e democrazia in Europa, nuovi scenari. Il professor Stefano Zamagni, ecco, dirò solo qualche cosina perché è conosciutissimo, è dal 27 marzo 2019 presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali della città del Vaticano, docente ordinario di economia politica, già preside della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, membro di diversi consigli scientifici, tra cui anche quello dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain, ma anche del Pontificio che è ancora più importante, consiglio per la cultura, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, ha ricevuto diversi premi come quello Giuseppe Tognolo per la cultura e economia e il premio Giorgio La Pace. Tra le numerose pubblicazioni, voglio citarne alcune, oltre a Istituzioni di Economia Politica, un testo europeo, appunto, del Murino, che credo sia alla base anche di riflessioni molto imponenti sull'economia politica, e profilo di storia del pensiero economico, ma anche molte riflessioni e testi si ritrovano rispetto all'economia civile, ancora economia, democrazia, istituzioni, una società in trasformazione, come l'impresa responsabile mercato civile, e via troviamo tantissime altre pubblicazioni. Io sono molto rapido proprio per dare la parola al professor Zamagni, e poi alla fine della stessa potremmo fermarci per qualche spunto di riflessioni, domande e approfondimenti. Grazie ancora Stefano. Grazie, grazie Gennaro, grazie Luigi. Sono molto lieto di prendere parte a questo corso, che appunto è iniziato già da qualche tempo, e mai come in questo momento un titolo che è stato dato al corso Educare la pace poteva trovare interessi così specifici, per le ragioni ormai tutte note. Io, come ho già detto, devo lasciarvi alle 5 meno un quarto, per ragioni legate al fatto che alle 5 ho lezioni all'università, e quindi io nella prima parte, poi avremo almeno tre quarti d'ora per la discussione, e sarò lieto di dare risposte a domande di qualsiasi tipo, collegate a quanto andrò dicendo, o anche su temi che non avrò il tempo di mettere in chiara evidenza. Ora, prendo le mosse dal famoso discorso di Jacques Maritain all'UNESCO nel 1947. Ora, il titolo era La Voix de la Pée, cioè la via della pace, ed è un peccato che questo discorso magari viene citato, ma non è più fatto oggetto da diversi anni di riflessione, perché in quel discorso Jacques Maritain, dall'alto della sua capacità profetica, aveva in un certo senso capito qual era il nodo che occorreva sciogliere per veramente garantire la pace. Ma sappiamo come vanno le cose, il tempo cancella anche ricordi importanti che non dovrebbero essere cancellati. Prendo le mosse da questa considerazione, oggi a livello mondiale sono 169 le guerre in corso, eppure si parla quasi esclusivamente della guerra in Ucraina. Perché? Perché se fosse l'unica la risposta sarebbe ovvia, ma come ho detto sono 168 o più 1. Come mai delle altre 168 qualche volta leggiamo sulle cronache o una qualche notiziola, ma non pongono problemi? La risposta è che quella in atto in Ucraina è la prima guerra globale nella storia dell'umanità. Le altre sono guerre mondiali. E allora questa è una prima distinzione, per colpa probabilmente, diciamo, degli intellettuali in senso ampio, che non si chiariscono mai le cose alla gente. E quindi si chiede un po' nella beata ignoranza. Che differenza c'è tra una guerra globale e una guerra mondiale? Una guerra mondiale è tale quando coinvolge più paesi o più comunità o più regioni, ma le conseguenze nefaste della stessa ricadono sugli paesi belligeranti. La guerra si dice invece globale quando coinvolge più paesi, ma le conseguenze, quelle che gli economisti chiamano esternalità negative, ricadono in capo anche a paesi o comunità cosiddette innocenti, che non hanno alcuna, come dire, responsabilità né dirette né indiretta sulla corsa. Il caso in questione è chiaro. Fino alla fine si sbloccò, ma vi ricordate quando ci fu nei mesi scorsi il blocco al porto di Odessa? Intere popolazioni del Nord Africa rischiavano letteralmente di morire di fame perché la Russia non aveva dato il permesso alle navi cariche di grano, granaglie, eccetera, di recarsi nei paesi di cui c'era bisogno. Questo è solo un esempio. Non parliamo degli effetti legati direttamente al commercio internazionale, alla inflazione, pensate alla questione del gas russo, ma mai nella storia dell'umanità qualcosa del genere si era verificato. Quando due o più paesi si facevano la guerra, se la dovevano sbrigare loro. Poi, a guerra finita, intervenivano semmai, come è stato il caso della seconda guerra mondiale, gli aiuti internazionali. Ma non mentre la guerra si svolgeva. Ecco allora perché è giusto ed è opportuno che si dedichi tante attenzioni alla guerra in corso in Ucraina. Perché questa è una guerra diversa da quelle precedenti. E nel dire questo, implicitamente vengo a denunciare la mia tesi. E cioè che questa guerra la si continua a leggere con gli occhiali come se si trattasse di una terza guerra mondiale. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Ecco perché non ne vediamo fuori. E la mia tesi è che dietro la guerra in corso c'è un conflitto che non ha nulla a che vedere con il conflitto tra Ucraina e Russia, avente per oggetto il Donbass, la Crimea, eccetera, e altre cose simili. Ma ha a che vedere la scelta tra unilateralismo e multilateralismo. Questa è la vera posta in gioco perché non si spiegherebbe altrimenti diversamente le cose come stanno andando. Voi sapete che fino a tempi recentissimi il modello di ordine internazionale era basato sulla unilateralismo che vuol dire che gli Stati Uniti governavano il mondo. Avevano la responsabilità dopo aver combattuto e vinto contro l'Unione Sovietica a partire dai primi anni 90, quindi da 30 anni a questa parte, l'unilateralismo non era messo in discussione da nessuno. Cos'è accaduto in questi 30 anni? Che la immersione della Cina, che è oggi ormai una vera e propria potenza in grado di gareggiare con gli Stati Uniti, ha messo in discussione proprio l'unilateralismo. E quindi si invoca da più parti, a cominciare ad esempio dal Vaticano per intenderci, un ritorno al multilateralismo. Ma ecco il punto, gli Stati Uniti su questo non cedono. Non cedono e non cedono. Io adesso non sto a dire se hanno ragione o torto. Questo è un altro discorso che viene dopo. Non mischiamo le cause con gli effetti. Perché uno potrebbe dire è bene che sia così. Questo è un giudizio di valore. Io affermo solo un giudizio di fatto. Gli Stati Uniti non accettano che si possa tornare al multilateralismo come c'era prima della caduta dell'impero cosiddetto sovietico. perché temono che andare in quella direzione voglia significare attribuire alla Cina il potere di gareggiare ad armi pari se non addirittura superiori perché voi sapete che fra tre anni il PIL prodotto interno lordo cinese avrà superato quello americano. Molti non se ne rendono conto perché sono dei superficialoni. Ma dal punto di vista della coscienza nazionale americana questo è un disastro. Cioè per la prima volta gli Stati Uniti non saranno più fra tre anni il primo paese. Perché? Perché il PIL cinese fra tre anni a meno di disastri che al momento non è possibile prevedere saranno in grado di superarli. Così per quanto riguarda altri elementi di cui non faccio parola per ragioni di tempo. Ve ne cito solo uno le terre rare. Voi sapete cosa sono le terre rare? Sono un insieme di 21 elementi come il trizio, il cristio, eccetera che sono indispensabili per la costruzione dei computer e per far funzionare l'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti ne hanno pochissimi mentre chi ha in abbondanza terre rare sono la Russia e la Cina. E allora è evidente che gli Stati Uniti temono che un'eventuale alleanza strategica tra i due paesi e ancora ieri l'altro avete sentito Putin che ha detto l'amicizia con la Cina è indefettibile, durerà per sempre, eccetera. Queste cose fanno paura perché evidentemente se queste bloccano l'esportazione di questi 21 elementi i cui nomi ne conosco alcuni ma il litio è uno di questi, il trizio, eccetera. Tutte queste diavolerie che servono per far funzionare questi aggeggi diabolici che sono le nuove tecnologie. E quindi capite che altro che petrolio perché al petrolio si può sostituire il fotovoltaico come si suol dire ma alle terre rare chissà, forse in un lontano futuro ma certamente al momento e per tanti anni a venire non potranno essere sostituite. Quindi allora è evidente che questa è una guerra diversa da tutte le altre. E allora è chiaro che l'Ucraina è un terreno che vede combattersi le due paesi Ucraina e Russia ma per conto degli altri. Come è stato detto questa è una guerra ibrida. Lo so che qualcuno dice no, non è vero ma perché la gente o non capisce oppure capisce ma ha degli interessi in gioco per non dire la verità perché questo è appunto l'interno. Allora detto questo per argomentare una tesi del genere è necessario che chiarisca alcune questioni a modi preambolo. La prima è quella che riguarda la distinzione tra pacifismo cosiddetto etico o direi e il pacifismo istituzionale. Ora voi sapete che il pacifismo ha una storia pensate a nomi come Gandhi in India come Bonhoeffer il pastore tedesco Bonhoeffer e tanti altri eccetera. ebbene il punto è che nel nuovo secolo ventunesimo secolo il pacifismo di testimonianza come viene chiamato oppure pacifismo etico non dico che non abbia più un ruolo ma non è più in grado da solo di far avanzare la causa della pace. Quindi tutti quelli che pensano che facendo io banalizzo un po' manifestazioni in piazza per chiedere la pace questa possa venire si illudono e alcuni fanno il gioco dall'avversario in buona fede in buona fede chi direi tra i tanti ha aperto gli occhi su questo punto specifico è stato Giovanni Paolo II quando nell'Angelus del primo gennaio 2002 disse tra le altre cose la frase l'ho ben memorizzata cito da lui forze negative guidate da interessi perversi mirano a fare del mondo un teatro di guerra Papa Giovanni Paolo II dice ci sono delle forze e ci sono degli interessi perversi che creano i focolai di guerra quindi è chiaro che di fronte a questa situazione chi invoca la pace si illude di poterla ottenere ecco perché oggi si sta parlando della forse è meglio chiudere l'audio perché sento che ci sono dei ritorni negli amici che sono in ascolto grazie oggi si parla di invece pacifismo istituzionale cioè dire un pacifismo che trae spunto dalla famosa frase di Papa Paolo VI nella Populorum Progresso del 1966 che dice la sviluppo è il nuovo nome della pace ancora una volta sono stati due pontifici grandi pontifici a capire quello che molti intellettuali anche da strapazzo non avevano capito perché ditemi voi cosa vuol dire lo sviluppo è il nuovo nome della pace non ha detto il pianisteo e quelli che si stracciano le vesti si ottiene la pace lo sviluppo e Papa Paolo VI usa apposto il termine nuovo lo sviluppo è il nuovo nome della pace nuovo fa riferimento alla situazione che lui già negli anni 60 fine anni 60 intravedeva come prossima avventura e così ecco allora perché il pacifismo di testimonianza conserva una sua funzione però dobbiamo dire a livello soprattutto culturale e per far prendere atto però bisogna toglier l'illusione perché quando soprattutto i giovani poi si rendono conto che nonostante tutti gli sforzi in quella direzione non vanno non non sortiscono l'effetto cadono in frustrazione e diventano cinici quindi è una grave responsabilità quella che certe persone alimentando i sentimenti giustissimi spingono persone soprattutto i giovani in piazza perché fanno credere loro che quella era no quella non è la via perché quella genera poi frustrazione uno si rende conto che ho fatto dieci battaglie sono andato in dieci post e non ho ottenuto niente e il rischio è quello di passare all'eccesso opposto ecco allora tant'è vero che Mario Albertini uno studioso dell'università scomparso un po' di anni fa dell'università di Paria in un saggio del 1984 ha una espressione che rende molto bene quello che ho detto dice scrive Albertini il pacifismo di testimonianza coltiva il sogno di eliminare la guerra senza distruggere il mondo della guerra lui si rifà Papa Giovanni Paolo II si rifà nell'Angelus del 2002 proprio a questa frase cioè se vogliamo essere seri noi dobbiamo capire le cause profonde non quelle prossime quelle immediate della guerra e se non le rimuoviamo ci illudiamo di poter coltivare il sogno della pace in questa infine l'ultima osservazione è che non possiamo non meditare su quanto è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 versetto nuovo beati gli operatori di pace perché non riflettiamo su queste cose perché mica dice il Vangelo beati gli invocatori della pace beati quelli che si piangono addosso no beati gli operatori e cosa vuol dire operatori operatori vuol dire costruttori e per costruire bisogna rimboccarsi le maniche e mettere mattone su mattone se vuoi che l'edificio vada avanti e insomma siamo di fronte ad un testo al quale aderiscono non solo i credenti cristiani ma anche tutti tutti quelli che hanno la testa sulle spalle che risale a duemila anni fa e che aveva colto il punto e cioè dire bisogna che la pace venga costruita allora quali sono le diciamo le tre tesi che valgono a conferire a questa affermazione evangelica tutta la sua forza profetica prima che la pace è possibile cioè la guerra è un evento e non è uno stato di cose come molti pensano perché se fosse uno stato di cose evidentemente ci sarebbe poco da fare invece la guerra è un evento che può durare anche a lungo ma è pur sempre una emergenza transitoria e quindi se è un evento può essere previsto e può essere impedito chiaro no? tant'è vero che in questo caso della guerra in Ucraina era stata prevista perché tutti mettono la data il 24 febbraio del 2022 ma vogliamo scherzare lo si sapeva già da mesi e mesi che sarebbe non si sapeva il giorno esatto in cui Putin avesse come dire schiacciato il bottone per dare ma lo si sapeva abbiamo i documenti a disposizione basta darli a legge e quindi non era un qualche cosa di imprevisto imprevedibile sappiamo benissimo che era da anni che gli uni e gli altri si andavano preparando le proprie forze armate alla guerra accumulando materiale di un tipo dell'altro eccetera ecco allora perché è importante dire che la guerra è un evento e non è uno stato permanente di cose la seconda tesi afferma come ho appena detto che la pace però va costruita cioè dire non è qualcosa che si realizzi spontaneamente a prescindere dalla volontà degli uomini e questo è molto brutto ma va detto è difficile da far capire alla gente perché molti pensano che la pace sia una specie di regalo che viene giù dal cielo no ma neanche per sogno la pace bisogna prima volerla e una volta che questa espressione è stata accolta va costruita nel senso che la pace è il risultato come adesso dirò di un assetto istituzionale adeguato e infine la terza tesi che emerge dalla celebre fase del Papa Paolo VI è che la pace è frutto di opere tese a creare istituzioni di pace voi sapete che la parola istituzione è la stessa che regole del gioco dire regole del gioco e dire istituzione è la stessa cosa se il gioco è quello economico parleremo di istituzioni economiche se il gioco è politico parliamo di istituzioni politiche e questo perché questa tesi è così importante perché ci obbliga a prendere posizione e cioè ci obbliga a dichiarare quali sono nelle condizioni storiche di oggi le istituzioni cioè le regole del gioco che meritano prioritaria attenzione e che quindi vanno subito adeguate e se invece uno è fatalista che pensa che la pace arrivi da sola che basti dire qualche giaculatore in più ci illudiamo perché qui non facciamo altro che incentivare la pigrizia di chi non vuole appunto raggiungere l'obiettivo eccetera ora il punto è che le istituzioni sia economiche sia politiche esistenti a livello internazionale sono tutte sbagliate tutte che ne dicono anche presunti esperti che si perché si vede che non sono abituati ad avere degli interlocutori quando parlano capaci di esitirli sarà per questo cosa vuol dire che sono tutte sbagliate lo devo specificare vuol dire che sono pensate per agire su degli interessi di protezione degli interessi di lungo termine e non di breve termine cioè in altre parole sono istituzioni che sono state pensate per favorire la cooperazione di lungo termine ma non a offrire incentivi adeguati a impedire il comportamento opportunistico nel breve termine vedete chi aveva capito questo in anticipo sui tempi è stato russo russo intelligente che usa la famosa gioco della caccia al cervo io non so perché i professori di scienze politico anche economia mai si parla del dilemma del prigioniero che va bene ma mai del gioco della caccia al cervo che è molto più importante per far capire non so se la sapete una volta la si insegnava a scuola tanti decenni fa io la imparai che facevo la scuola media superiore ci sono due cacciatori che devono dare la caccia al cervo e l'accordo tra i due è di spartirsi una volta catturato il cervo la carne del cervo a metà metà per uno e il cervo è un animale piuttosto come dire grosso c'è da mangiare come si dice e si dividono i compiti uno si mette dietro un cespuglio nascosto con l'arco e le frecce come allora evidentemente o la balestra e l'altro invece aveva il compito di girare nel bosco per attirare l'attenzione del cervo e portarlo al vicino al suo compagno che lo avrebbe poi ucciso non sparandogli che non c'era ma lanciandogli la freccia questa era l'interno ad un certo punto il cacciatore che aveva questo secondo ruolo di come dire portare fuori dalla tana il cervo per portarlo a tiro di accompagno vede passare una lepre vicino a sé e che cosa fa? abbandona il proprio ruolo la funzione che aveva pattuito con il compagno e va a dare e si prende la lepre e se la porta a casa perché? perché il ragionamento dice Russo che fa il secondo è il seguente dice io non sono sicuro di riuscire che noi riusciamo a dare la caccia al cielo mentre la lepre è certa e quindi me la porto a casa e ci mangio un paio di giorni supponiamo non solo ma il mio compagno secondo me si comporterebbe opportunisticamente come me in una situazione rovesciata e quindi il risultato è che uno ottiene qualcosa la lepre però non ottiene il risultato ottimale che sarebbe stato quello di spartirsi la carne di un cervo animale di più grandi dimensioni e così via ecco oggi la situazione delle istituzioni è rappresentabile da un gioco in inglese si dice stag hunt game che è stato risuscitato un pochino dall'oblio in questi ultimi mesi a seguito appunto della guerra in Ucraina perché succede esattamente questo che c'è un interesse di lungo periodo ad avere la pace e questo lo capisce alcun bambino però l'interesse di breve periodo dove breve periodo può voler dire sei mesi un anno o due anni a seconda dell'esempio che si fa c'è un interesse di breve termine da parte dei due contendenti Ucraina e Russia a comportarsi in maniera opportunistica e qual è il risultato? Che non si va al negoziato questo è il punto perché la gente normale dice ma perché questi due paesi si scannano beh soprattutto si scanna l'Ucraina che fra un po' se va avanti non ci sarà più niente perché non fanno altro che bombardare vediamo le immagini la Russia non ha questo problema perché è stata sufficientemente scaltra da portare il teatro di guerra fuori dai propri confini però anche lei ha delle conseguenze uno dice ma allora se tutti e due ci rimettono come mai non accettano il risultato è quello che ho detto perché evidentemente al negoziato i due contendenti vogliono sedersi ad una condizione la condizione di portare la vittoria per ottenere dal negoziato condizioni di maggiore maggiore favore per la propria posizione ecco allora perché la terza tesi dice dobbiamo ripensare il modo con cui funzionano le istituzioni sia politiche sia economiche perché devono funzionare in maniera tale da modificare gli incentivi individuali di breve termine questo è il punto perché finora invece io penso in buona fede nel secondo dopoguerra si è pensato ad agire sugli incentivi di lungo termine questo è stato un errore Maritain l'aveva capito nel 1947 perché era oltre che molto buono era anche molto intelligente chi è venuto dopo di lui non aveva la stessa capacità di lettura dei fatti e quindi la stessa capacità diciamo profetica detto questo allora l'ulteriore passo quali sono nelle condizioni attuali le istituzioni di area economica quelle che nelle quali ovviamente ho più titolo di parlare sulle quali ho più titolo di parlare che meritano come ho detto prima una prioritaria attenzione allora per quanto riguarda l'assetto istituzionale di tipo politico la risposta è più importante è quella che riguarda la cancellazione del diritto di veto perché questa è un'autentica vergogna il diritto di veto del consiglio di sicurezza perché dare a un paese dei cosiddetti membri permanenti del consiglio di sicurezza il diritto di veto equivale ad attribuire un potere di monopolio con tutto ciò che questo significa e come per fare un parallelo in economia se lo Stato attribuisce ad un'impresa il potere di produrre e vendere un determinato bene di essenziale di grande rilevanza perché il monopolio è il pericolo perché il monopolio è la prefigurazione della dittatura quindi dare il diritto di veto è come vale dire fra di noi cinque membri permanenti uno può diventare un dittatore perché basta che ponga il veto per bloccare tutto e questa è la prima cosa che va fatta e va cancellata voi direte perché è stata fatta è stata fatta nel dopoguerra perché c'era una situazione particolare di guerra fredda allora c'era Stalin sapete come era Stalin lo potete immaginare e così via come dire prendiamo questo piuttosto che niente però oggettivamente è stato un errore 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 chiaro per quanto riguarda invece la sfera propriamente economica quali sono le istituzioni cioè le regole del gioco che vanno cambiate la considerazione più importante è che le istituzioni economiche sono state pensate a Bretton Woods nel 1944 Bretton Woods è il nome di una cittadina americana a nord di New York si radunarono i rappresentanti delle potenze vincitrici per delineare appunto le regole del gioco economico e negli accordi di Bretton Woods dagli accordi di Bretton Woods emersero la Banca Mondiale il Fondo Monetario Internazionale l'Organizzazione Mondiale del Commercio e altri l'Organizzazione Mondiale della Sanità e via discorrendo ora se voi andate a prendere quegli accordi o meglio andate a leggere gli statuti di questi soggetti internazionali cosa scopriamo che la logica sottostante la regolamentazione è una logica centrata sulla necessità di rilanciare il processo di crescita economica del mondo occidentale non si fa mai parola degli altri anche perché allora c'era il colonialismo non dimentichiamolo l'Africa era ancora tutta colonizzata in quei anni la stessa cosa in Asia e in America Latina in America Latina meno ma di fatto lo erano quindi gli accordi di Bretton Woods sono accordi che vengono spacciati come accordi per favorire lo sviluppo a livello internazionale questi sono balle non ci crede nessuno ma per favorire lo sviluppo del mondo occidentale che era uscito ovviamente dissestato dalla seconda guerra mondiale pensate al caso dell'Italia la stessa Germania e via ma anche le potenze vincitrici la Francia era stata ridotta all'osso e così via eccetera quindi da allora gli statuti non sono mai stati cambiati è di acqua sotto i ponti nel passato sono passati 80 anni e il risultato è che oggi abbiamo quegli statuti che non rappresentano più le esigenze delle paesi cosiddetti in transizione come sono i paesi emergenti ed è chiaro allora che questo aiuta a capire l'aumento delle diseguaglianze come il famoso libro di Branko Milanovic capo servizio studi della Banca Mondiale molto bravo ha messo in evidenza nel libro che lo ha reso famoso con tutti i dati eccetera e cioè che negli ultimi quarant'anni le diseguaglianze sono aumentate molto di più che non nei due secoli precedenti diseguaglianze sia tra paesi sia all'interno dei paesi e allora anche un bambino capisce che l'aumento delle diseguaglianze è un fattore belligeno che genera la guerra perché? perché quando una comunità un popolo soffre di vede che la propria posizione di benessere si allontana da quella della vagone di testa ovviamente è facile preda del populismo di qualcuno che dice armiamoci e così riconquisteremo le nostre aree di benessere che ci hanno portato via che in parte è l'argomento della Russia oggi quando dice noi vogliamo il Donbass secondo voi perché vogliono il Donbass la Crimea l'ha già presa perché la Crimea vuol dire l'accesso al Mar Nero se voi togliete la Crimea alla Russia questa come fa a far partire le proprie navi e il Donbass perché lo vuole? perché il Donbass è pieno di terre rare non tanto di petrolio che quello ormai non conta più niente il petrolio conta ancora un po' di anni il gas ma non certo il petrolio ma hanno le terre rare è il discorso che vi ho fatto prima quindi altrimenti non vanno a fare una guerra soltanto per prendere un po' di terra per coltivarci le patate di terra sia la Russia che l'Ucraina ne hanno fin troppa voi lo sapete l'Ucraina e ancora oggi è considerato il granaio dell'Europa e così via eccetera ecco allora il punto in questione bisogna che riscriviamo le regole del gioco interessanti cioè gli statuti che hanno fatto nascere le organizzazioni di cui ho detto a Bretton Woods il Fondo Monetario eccetera vanno completamente riscritte secondo bisogna far nascere due nuove organizzazioni mondiali che ancora non esistono perché non si vuole farle esistere quali sono? sono l'organizzazione mondiale delle migrazioni e l'organizzazione mondiale dell'ambiente ora sappiamo tutti guardate l'ipocrisia di tanti l'ipocrisia tutti si stracciano le vesti che l'ambiente si sta deteriorando fra un po' voi andrete a morire perché io morirò prima perché sono molto vecchio ma voi che siete giovani se le cose non cambiano fra vent'anni non si respira più perché il cambiamento climatico questi sono dati oggettivi il CO2 e il CF4 stanno raggiungendo il tipping point che vuol dire il punto di rottura lo sappiamo tutti però non si vuole far nascere un'organizzazione mondiale dell'ambiente c'è l'organizzazione mondiale del commercio ma non quella dell'ambiente perché se ci fosse un'organizzazione vi assicuro io che le questioni si metterebbero a posto in pochi giorni perché queste organizzazioni hanno un potere si dice in inglese di enforcement di esecutorietà cioè di fare rispettare gli impegni presi nel 2015 c'è stato Parigi gli accordi di Parigi firmati da tutti ma gli Stati Uniti non hanno ratificato e siccome non l'hanno ratificato loro non l'hanno poi ratificato neanche gli altri paesi e quindi gli accordi di Parigi non sono serviti a niente e l'anno scorso cosa è servito gli accordi di Shem al-Sai in Egitto e l'anno prima ancora a Glesbo niente aria fritta però sono serviti al turismo perché gente insomma si è divertita ci siamo capiti è chiaro questo è il punto e questo perché perché in nascenza di una organizzazione mondiale che abbia la forza di obbligare chi ha preso un impegno a mantenerlo non c'è la stessa cosa vale per l'organizzazione mondiale delle migrazioni ma le migrazioni riguardano gli esseri umani sapete non riguardano le merci perché abbiamo l'organizzazione mondiale per le merci e non per le persone voi sapete che oggi se ci fosse se fosse possibile i migranti costituerebbero la quinta nazione più popolata del mondo perché i migranti a livello mondiale sono qualcosa come 80-90 milioni permanentemente flussi che vanno di qua di là dentro l'Africa poi dall'Africa in Europa dell'Europa in America e noi abbiamo 90 milioni di esseri umani che fino a prova contraria hanno un corpo ma anche uno spirito che vagolano come se fossero delle bestie anzi le bestie sono trattate meglio come voi sapete perché dalle bestie si ottiene un sovrappiù e nessuno si pone il problema anche lì se ci fosse un'organizzazione mondiale delle immigrazioni queste evidentemente fisserebbero le regole per stabilire i flussi i flussi perché ci sono alcuni paesi noi siamo tra questi che attraggono ma perché attraggono non perché siamo più belli ma perché l'Italia basta vedere la cartina geografica nel Mediterraneo come è messa quindi arrivano per forza da noi nessuno arriva di primo acchito in Norvegia eh dall'Africa come fa capite e così via che stabilisce ad esempio le regole del rifulment cioè del rimpare tutte queste cose noi andiamo avanti a lamentarci dei problemi associati ai movimenti migratori perché i problemi ci sono ma non facciamo nulla per risolvere il problema quando invece un'organizzazione del genere potrebbe farlo molto facilmente e potrei continuare ma per ragioni di tempo non lo faccio però voi avete capito il punto infine occorre far decolare un piano volta alla riduzione bilanciata degli armamenti e in modo da bloccare la proliferazione delle testate nucleari ieri nel discorso di ieri di Putin lui adesso si è portato fuori dallo start come dire io non sto più all'accordo ma perché di nuovo perché quello era un accordo preso tra quattro paesi ma siamo matti questi sono accordi che devono valere a livello internazionale per cui Putin ha detto a Biden siccome ci eravamo messi d'accordo noi tu adesso mi fai i dispetti allora io non ci sto più come quando i bambini litigano fra di loro ma dico ma in modo una persona di normale intelligenza non deve capire queste cose è chiaro quindi ecco perché oggi la convenzione delle Nazioni Unite sui dispositivi d'arma autonomi che sono i cosiddetti LAWS LAWS non vuol dire leggi è un acronimo che sta per LESOL Autonomous Weapon System e si è conclusa nel dicembre 2021 con un nulla di fatto perché per la stessa ragione perché mancando una agenzia internazionale per l'enforcement non si è potuto fare niente infine c'è la grossa questione che riguarda i cosiddetti aiuti internazionali se io vi dicessi voi sapete tutte le volte che si fanno le raccolte di denari vari per aiutare questo se io vi dicessi voi siete sicuri che i denari raccolti vadano a finire vadano a finire bene a favorire e aiutare quelli che ne hanno bisogno sicuramente voi perché perché non c'è trasparenza e quando io faccio una donazione per i bambini africani chi mi assicura poi che quei soldi miei e dei miei amici effettivamente servono e questo succede perché perché non c'è una agenzia indipendente per la gestione degli aiuti noi le avevamo proposte ma ci viene rifiutata si chiama AIGA agenzia internazionale per la gestione degli aiuti nel senso che a questa agenzia affluiscono tutti gli aiuti di varia natura e l'agenzia è tenuta a rispettare le condizioni di trasparenza e di dare conto su base annuale dell'impatto sapete cos'è l'impatto che questi aiuti hanno avuto nelle situazioni ambientali che si vanno a considerare e voi capite subito allora che tutti gli sforzi che le raccolte fonde la più parte dei fondi raccolti vanno a finire in brutte mani ve lo assicuro io io sono stato presidente della ICMC per otto anni ICMC è una organizzazione non governativa ONG della città del Vaticano l'unica che vuol dire International Catholic Migration Commission ICMC ripeto International Catholic Migration Commission che ha sede a Ginevra dove sono le Nazioni Unite e io ho fatto il presidente per otto anni ne ho viste di tutti i colori se avessi tempo potrei scriverci dei libri per voi non vi rendete conto lo spreco dei fondi e le porcherie che si fanno in questi ambiti perché non c'è un minimo di controllo perché il cittadino normale o un'associazione che dicesse fatemi vedere come avete speso i soldi e quali risultati avete ottenuto la risposta è ovviamente quando va bene lo faremo altrimenti neppure ottenete la risposta al messaggio ecco allora vedete quando si parla di queste cose io vi faccio esempi concreti questo è quello che i movimenti del nuovo pacifismo che io chiamo istituzionale devono fare non dire vogliamo la pace ma chi è che non vuole la pace ma sono discorsi da fare bisogna scendere in piazza e dire vogliamo che nei prossimi sei mesi si dia spazio si proceda alla creazione di queste almeno tre nuove istituzioni l'Aiga quella che ho chiamato per le migrazioni e per l'ambiente che sono le tre più urgenti perché se da parte di milioni di persone in giro per il mondo arrivasse arrivassero alle orecchie dei potenti cosiddetti politici richiesti di questo tipo questi sarebbero tenuti a fare ve lo dico io e perché perché i politici insomma hanno bisogno dei voti se i cittadini quando vanno a votare dicessero noi ti votiamo però tu ti impegni il partito se ti votiamo a fare questa richiesta nelle sedi opportune questa ma nessuno che chiede questo e allora allora con quale coerenza si va in piazza vergogna questa è la vergogna perché si va in piazza per lavarsi la coscienza per dire ho fatto un gesto che non sia avveniente perché mantiene lo stato scuoto ma se quello invece dicessero noi vogliamo che nasca l'aiga e facciamo anche una proposta un abbozzo di diciamo di statuto poi si può modificare discutere e voi capite che questo sarebbe veramente un bel passo nella direzione della pace ecco allora cosa vuol dire parlare oggi civis pacem para civitate i romani dicevano civis pacem parabellum se vuoi la pace prepara la guerra che è la mentalità ancora oggi dopo duemila anni dominante perché ci sono quelli che dicono anche in Italia che bisogna rafforzare la potenza militare poi quella nucleare ancora meglio la guerra nucleare non scoppierà mai ve lo assicuro io ve lo assicuro quindi non date retta a quelle organi di stampa che dicono quasi tutti ciò la guerra anche quella viene messa in circolazione per far paura per mantenere lo stato scopo perché ci sono ragioni oggettive che ci fanno concludere che la guerra nucleare non ci sarà adesso se volete poi dopo ve le dico anche mai così via c'è questo bel articolo che non è l'ho letto ieri vedete che non è ancora stato pubblicato è di Michael von der Stullenburg lui è un tedesco tedesco che ha lavorato 30 anni alle Nazioni Unite a questi problemi 34 anni alle Nazioni Unite e ha scritto questo articolo che verrà pubblicato a giorni quando lo leggerete c'è da rabbrividire perché lui racconta con fatti nomi e cognomi il giorno e l'ora in cui lui evidentemente si vede che si è sentito in necessità di vuotare il sacco e allora ne impareremo delle belle una di quello che più mi ha colpito leggendolo è perché io non avevo questi fatti che quando nel marzo dell'anno scorso ve lo ricordate l'Ucraina Zelensky propose a Putin con la mediazione della Turchia vi ricordate di andare al negoziato di pace ed erano pronti quasi arrivavano chi ha impedito che questo avvenisse lui scrive in questo articolo gli Stati Uniti la Nato cioè gli Stati Uniti gli Stati Uniti la Nato ha detto no Zelensky tu non vare al negoziato tirati indietro noi però ci impegniamo ad aiutarti con il cibo con le armi con tutto però tu non devi andare al negoziato per il discorso che vi ho fatto all'inizio perché l'obiettivo è quello di indebolire a tal punto la Russia per sottrarla alla morsa del multilateralismo questo è la verità e un po' alla volta queste verità emergono perché questo questo signore dopo 34 anni adesso è andato in pensione quindi probabilmente sarebbe stato meglio uno dice che l'avesse detto un anno fa però meglio tardi che mai però lo dice e come lui ci sono tanti altri esempi ecco allora andando alla conclusione quello che mi preme trasferire soprattutto ai più giovani non date retta a chi vi dice che non è possibile la pace la pace è possibile perché è un evento quindi come viene può anche essere tolto secondo oggi la pace è legata a doppio filo al problema dell'ordine economico internazionale perché oggi la grande lotta è della supremazia in ambito sia economico vuol dire anche tecnologico tecnologico vuol dire perdiamoci chiaro la nuova le nuove intelligenze artificiali sapete l'ultima l'ultima è di quattro giorni fa lo sapete o no cioè vengono fuori delle informazioni dall'America direttamente incredibili e cioè quella delle nanobots si chiamano e l'idea è quella della ibridazione tra l'intelligenza biologica dell'essere umano e l'intelligenza artificiale perché ora c'è l'intelligenza biologica da una parte dall'altra l'intelligenza artificiale allora l'intelligenza biologica è governa il mondo dei sentimenti i sentimenti morali della creatività e le cose che sappiamo tipi l'intelligenza artificiale invece ha una potenza computazionale enorme si parla di trilioni di operazioni in un secondo e così via allora la nuova frontiera è quella di ibridare le due cioè di mettere in interazione mettendo sulla questa si chiama cortezza frontale del cervello delle persone una specie di micro 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 chips sotto cutaneo che trasmette con il quale la persona che ha questo micro chip trasmette all'intelligenza artificiale e gli dice in tempo realissimo cioè in un secondo tirami fuori questo quest'altro eccetera per cui unendo la creatività tipica dell'essere umano con la potenza computazionale di queste diavolerie voi capite subito le implicazioni dal punto di vista e oggi l'oggetto del contendere è questo tra le due parti cioè l'occidente tra cui noi europei e dall'altro la Russia con la Cina perché la Russia con la Cina rappresentano come dire qualcosa come il 40% della popolazione mondiale non stiamo parlando di piccoli paesi eccetera eccetera ecco quindi perché dobbiamo abituarci da adesso in avanti a ragionare più in grande non fare i soliti discorsi di prima la guerra c'è l'egoismo è chiaro che c'è l'egoismo ma il peccato originale l'abbiamo sapete ci sono delle persone strane come se non esistesse il peccato originale dice è perché ci sono gli egoismi altro che trovata me lo raccomando io dove l'intelligenza nel dire delle banalità del genere è chiaro che c'è l'egoismo che c'è l'opportunismo quando hai detto questo non hai combinato niente capendo invece quali sono come diceva Giovanni Paolo II le forze negative guidate da interessi perversi ma pensate un papa che parla di interessi perversi e di forze negative alludendo esattamente agli aspetti di cui ho parlato finora ecco allora il messaggio finale è che è possibile è possibile tornare a coltivare il seme della speranza ovviamente poi dobbiamo volerlo perché il seme della speranza è un seme particolare bisogna annaffiarlo tutte le mattine è come una pianta ci sono certe piante che vanno annaffiate una volta alla settimana altre invece tutte le mattine ecco il seme della speranza è una pianticella che va annaffiata capite il senso della metafora dobbiamo ritornare a pensare in grande e quindi a coltivare il disegno di un processo di trasformazione che caratterizza questa fase storica e d'altra parte era ovvio dopo 70 anni in occidente di pace perché dal secondo dopoguerra ad oggi in occidente cioè in Europa e Stati Uniti non c'era mai stata una guerra e quindi perché ci meravigliamo siamo stati in questi 70 anni con le mani in mano non abbiamo fatto niente nel senso che dicevo prima di cambiare gli statuti di aggiungere le nuove e adesso ci lamentiamo allora rimbocchiamoci le maniche ritroviamo il senso della gioia che c'è in un lavoro come questo che ha come obiettivo finale il bene comune e questo è nella nostra possibilità perché c'è il peccato originale lo sappiamo però c'è anche la redenzione e allora non possiamo disgiungere questi due momenti grazie per la vostra attenzione e adesso abbiamo almeno 40 minuti per torno lieto di rispondere a vostri argomenti a vostri pensieri di qualsiasi tipo grazie grazie a te Stefano grazie professore Zamagni per la bellissima lezione come sempre piena di spunti di riflessioni che ci mettono a pensare come si suol dire insomma ci corre l'obbligo di pensare soprattutto per i più giovani ma anche per noi e io chiaramente insomma i temi sono tantissimi partendo dall'evocazione costruttiva della pace che supera come dire di gran lunga tutti gli aspetti diciamo declarativi che servono a ben poco soprattutto in una fase storica come la nostra e mi piace molto l'idea del richiamo al dovere delle organizzazioni all'attenzione verso le organizzazioni credo Stefano forse sarebbe bello parlare di corpi intermedi della pace nel senso che forse questo è il problema nel micro così come nel macro mancano i corpi intermedi e le organizzazioni dovrebbero essere come dire codiuvate e aiutate ad essere corpi intermedi tra ciò che è impotente cioè ciò che siamo noi e ciò che è potente ossia la politica quello che in qualche modo dovrebbe poi alla fine produrre davvero un cambiamento questo che tu dici luigi molto ti ringrazio perché sì avevo in animo di dirlo ma mi era passato tu sai che già 15 o 20 anni fa era stata avanzata una proposta per creare in Europa per creare a livello di Nazioni Unite una seconda Camera come tutti i parlamenti del mondo hanno tutti i parlamenti hanno il senato dei deputati o i nomi cambiano ma hanno due cambi perché all'Assemblea delle Nazioni Unite c'è solo una Camera e la seconda Camera questa era la proposta doveva rappresentare i corpi intermedi della società civile così come la prima Camera rappresenta gli stati e siedono lì quando ci sono le Assemblee Generali i rappresentanti dei vari stati perché non avere un'altra Camera dove siedono i rappresentanti delle diverse espressioni della società civile internazionale tra cui le ONG pensate a certe grosse associazioni di volontariato internazionale pensate a Oxfam e così via poi si stabiliscono i regolamenti per trovare i modi della rappresentanza cosa che si può fare oggi facilmente grazie alle nuove tecnologie e quello sarebbe un bel aiuto qualcuno può dire è vero potrebbero non avere il potere decisionale però il potere di fare domande di esigere risposte ce l'avrebbero e a me basterebbe questo quindi grazie Luigi per questa tua osservazione che io sottoscrivo in maniera piena grazie a te bene lasciamo spazio al battito allora chi rompe il ghiaccio rompete il ghiaccio dai vedete se io fossi in presenza vorrei a darvi un pugno in testa e così rompereste subito il ghiaccio buonasera scusate prego io più che una domanda ho una curiosità su quello che dicevamo prima riguardo quello che diciamo la minaccia di una guerra nucleare che in realtà è impossibile nel senso che abbiamo detto che si scongiura rispetto a tutto quello che si dice è solo diciamo una minaccia in sé per sé e non una possibile reale diciamo opportunità opportunità del termine la ragione è questa come tu sai Vittorio le armi nucleari sono di due tipi tattiche e strategiche le armi nucleari tattiche sono quelle che hanno un raggio di azione limitato un raggio che può andare dai 20 ai 40 ai 50 chilometri la butti sul Donbass per fare l'esempio e quelli fanno morire tutti quelli che vivono in quel raggio di cui ho detto eccetera e il punto allora qual è che infatti se voi notate Putin parla sempre di armi nucleari tattiche che sarebbero già pronte nelle navi che sono in stazza nel mar baltico come dire guardate che io sono già pronto basta schiacciare un bottone parte il razzo con dentro il punto però qual è che se questo avvenisse facciamo mente locale di fronte a questo la Nato sarebbe costretta ad intervenire perché non può tollerare che altre bombe nucleari tattiche si espandono nei territori vicini perché la bomba nucleare strategica la Russia non la può mandare perché distruggerebbe se stessa perché una strategica ha un raggio di azione di centinaia e centinaia di chilometri e quindi è chiaro che non può delimitare gli effetti perversi e secondo voi gente come Putin e la sua congrega che gli sta vicino è disposta a sacrificare perché vedete a differenza dei missili normali le bombe nucleari inquina l'aria e l'aria la respirano tutti mica possono loro avere l'eccezione e mettersi sotto una campana per evitare l'inquinamento quindi è evidente che loro usano quella minaccia per intimorire eccetera ma non lo faranno mai anche perché mentre la tattica avrebbe effetto locale non avrebbe alcun effetto sugli Stati Uniti perché sugli Stati Uniti dovrebbero arrivare bombe strategiche in parte dalla Russia per il versante orientale e dalla Corea del Nord sul versante occidentale cioè la California perché la Corea del Nord ha adesso un missile che arriva a 3500 km di distanza tu gli metti un'attestata nucleare strategica e questa va a finire su San Francisco e capite allora ecco perché oggi l'arma nucleare è diventata talmente devastante da far paura in primis a coloro i quali la usano perché anche loro morirebbero a meno che appunto l'uso di quella tattica non provocherebbe questo però sappiamo già perché già è stato detto che da parte della Nato ci sarebbe una risposta ovviamente adeguata e questo è ovvio che Putin e gli altri alla luce anche tutta la propaganda in chiave li c'entra anche la componente religiosa di Kirin e cioè la Russia è l'unica terra a difesa del cristianesimo e una bisogna ho dovuto fare un po' di studi anche sul passato ad esempio autori come Chekhov che sono oppure quello più famoso insomma quello del grande inquisitore e che sono dei giganti della letteratura internazionale che aveva scritto alla fine dell'ottocento la Russia è l'unico paese al mondo che difenderà il cristianesimo robe da mate siamo alla fine dell'ottocento quindi non c'era ancora stato il comunismo perché è radicato nella coscienza russa questa idea che non per nulla si chiamano ortodossi perché dice noi siamo gli unici che difendono la quintessenza del cristianesimo allora è chiaro che chi si alimenta di queste di queste componenti ideali non potrà mai accettare di andare nel versante della guerra nucleare perché vorrebbe dire la loro stessa scomparsa quindi io non ho mai creduto e in effetti vedrete che si usa però per fare per intimorire come dire la povera gente che non è tenuta a sapere certi dettagli però vedo che c'è Mirella che ha una domanda Mirella Priore se interpreto bene il suo messaggio o no ci sono altri? Io ho alzato la mano buonasera Prego Renato bravo Sì sono collegato da Milano è molto interessante la sua la sua presentazione mi ha colto veramente di sorpresa la distinzione fra guerra globale e guerra mondiale questo veramente mi aiuta a comprendere lo scenario ecco proprio alla luce di questa nuova definizione di guerra globale vorrei avere da lei qualche interpretazione sulle carenze che abbiamo sotto il profilo della mancanza di un'organizzazione mondiale della giustizia ossia abbiamo tribunale internazionale contro i crimini che viene istituito ogni tanto vedi Norimberga ma manca l'istituzione diciamo che si occupa anche degli aspetti della giustizia perché alla fine alla radice siamo andati a rivedere che sono problemi di etica nel senso i governi non hanno ben presente quale dovrebbe essere Renato che mestiere fai? mi occupo di relazioni pubbliche no io volevo dire che studi hai fatto? relazioni pubbliche e semiotica semiotica bravo allora la tua domanda è molto importante perché mi permetti di chiarire un punto tu hai usato etica e lì ti blocco subito non si può più usare la parola etica senza metterci l'aggettivo perché tre sono le matrici etiche c'è l'etica utilitaristica l'etica deontologista e l'etica delle virtù l'etica delle virtù è quella che nasce con Aristotele passa per Sant'Omaso e poi arriva a Maritene Maritene è stato di grande anche se molti non lo sanno ma Maritene ha dato un contributo notevole proprio per questo perché ha fatto calare l'etica delle virtù nel contesto del suo tempo storico l'etica deontologica è quella legata al nome di Kant e l'etica utilitaristica è quella legata al nome di Bentham Jeremy Bentham filosofo inglese 1789 anno di pubblicazione del suo libro fondamentale allora perché è importante questa distinzione perché una proposta o una presa di posizione può essere compatibile con l'etica utilitaristica ma non con l'etica delle virtù o viceversa ecco qual è il problema il problema oggi è che abbiamo bisogno di muovere passi verso una comunanza etica nella società del pluralismo perché se tu parli ad esempio con una persona di cultura se non di fede musulmana e gli parli di etica lui ti dà delle risposte diverse qualitativamente da quelle dell'etica utilitaristica perché per l'utilitarismo qual è il criterio di giustizia utile è giusto tutto ciò che aumenta l'utile cioè il benessere materiale allora se tu dove è oggi la culla principale dell'etica utilitaristica nel mondo anglosassone un americano un inglese dice fammi vedere quello che dici che cosa produce cento poco fuori solo se produce duecento io la prendo in considerazione capito l'etica delle virtù invece è quella che nasce con Aristotele e che ha come fine il bene comune mentre l'etica deontologica ha come fine la doverosità il rispetto del dovere vatti a leggere il libro di Hannah Arendt il processo Eichmann quando gli chiedono il presidente del tribunale ma tu brutto patacca sapevi quello che stavi facendo o no e dice io lo sapevo che manda e allora perché l'hai fatto perché io ero un colonnello e io dovevo obbedire agli ordini dei miei generali del mio superiore gli ordini non si discutono chi ragiona così è un deontologista questo è il problema che molti non sa quindi è chiaro che se tu sei un deontologista e dove oggi il deontologismo è un po' in disgrazia ha mantenuto la sua radice però nei popoli germanici in senso ampio eccetera e io me ne accorgo subito quando parlo con i miei colleghi nei consessi internazionali noi italiani abbiamo avuto la fortuna e il caso di dirlo siamo stati più influenzati dall'etica delle virtù perché il cattolicesimo ha valorizzato l'etica delle virtù mentre invece il protestantesimo ha valorizzato le altre etiche il protestantesimo anglosassone e quello tedesco che uno è luterano l'altro è più calvinista e così via quindi per concludere quello che tu dici è vero ma non si riesce a trovare l'accordo perché tu dici un ente che stabilisca giustizia ah benissimo ma la domanda diventa su quale base utilitaristica e lì casca l'asino allora lì bisogna agire in un'altra maniera solo che in Italia non si studia più grande filosofia non si produce più grande teologia e quindi la gente rimane in ignoranza ma la soluzione c'è che è la soluzione che per primo presentò San Francesco che San Francesco non aveva studiato ma aveva un carisma particolare cosa fa San Francesco va dal sultano va dal sultano senza niente neanche neanche una forchetta aveva come dire poteva farlo fuori sultano ed ha ottenuto in quel momento la pace perché sapete la vicenda dei destri cioè cosa vuol dire questo che in questa situazione il criterio per superare le divergenze tra le tre matrici etiche qual è è il criterio del dono come gratuità la pratica del perché se tu pratichi il dono come gratuità stai pur certo che quelle differenze scompaiono perché tu sei supponiamo un utilitarista e porti avanti la tua linea e io non riesco a convincerti però io ti faccio un dono gratuito cioè non un dono interessato tu vuoi scommettere che cambi posizione cambi subito posizione perché è il dono a questa capacità di mandare in crisi le coscienze perché tu dirai ma come mai lui che la pensa diversamente da me mi ha fatto un dono gratuito allora vuol dire che c'è una dimensione che va al di sopra dell'etica perché l'etica appartiene sapete Aristotele ma sopra l'etica c'è il bene il primato del bene sul giusto Platone invece affermava il primato del giusto sul bene io sto dalla parte di Aristotele perché a me interessa prima guardare al bene delle persone e poi guardate a proposito di questa guerra non dimenticatevelo Erasmus Erasmus da Rotterdam 1503 scrive una frase e voi la dovete ripetere tre volte al giorno prima dei pasti che dice state attenti meglio una pace non equa di una guerra equa aveva capito tutto Erasmus era cattolico cioè dire è vero che quando vuoi fare la pace devi fare qualche compromesso ma è meglio cedere e avere la vita sana piuttosto che una guerra che ti uccide che però è equa perché se tu fai la pace non equa però non muori dopo qualche anno si può recuperare ma se io ti ammazzo come faccio a recuperare è bella questa frase di Erasmus e io quando l'ho letto ho detto vedi ma perché perché lui aveva capito esattamente cioè lui era un innamorato della posizione francescana e anche nel vita di tutti i giorni quando io vedo in certe situazioni in certi contesti dove mi tocca in certi consessi come faccio per sbloccare la situazione metto in pratica e ha sempre funzionato ha sempre funzionato e sì perché tu non puoi dire a uno che la pensa diversamente da te io sono superiore a te perché quello lato ti uccide oppure fa la guerra invece tu lascia di sparte quello il primato del bene sul giusto che non vuol dire che la giustizia non è importante ma viene dopo prima pensiamo al bene e il primo bene è la vita umana e il secondo bene se tu chiedi ai bolognesi è mangiare è mangiare bene le tagliatelle che però sbloccano la situazione sbloccano la situazione meglio e più di quanto non si crede grazie Renato ma dove abiti tu a Milano a Milano sì grazie per la risposta è veramente inoltre allora adesso c'è quella l'amica che si era scollegata come si chiama la Renato no Renato come si chiamava quella di prima che mi ha mandato il messaggio dicendo che era scollegata ci sono altre domande professore io vorrei dire qualcosa molto velocemente che mi ha colpito moltissimo quando lei ha citato il versetto del Vangelo secondo il Matteo beati opere della pace perché adesso quello che ha detto per l'incontro fra San Francesco sultano perché quando vediamo questo versetto nella Bibbia e nella lingua araba la parola pace risulta come selam che viene dall'ebraico e ramaico shalom quindi oggi musulmani quando parliamo di musulmani viene da questa parola quindi sono chiamati ad essere anche operatori della pace è anche vero nel Corano i discepoli apostoli di Gesù e anche sono definiti come muslimini vuol dire che sono sottomessi alla pace di Dio allora da questo punto di vista siccome lei ha già citato questo incontro fra San Francesco e Sultano nel 1219 da Mietta e oggi viviamo in un'epoca dove c'è un papa da dieci anni che si chiama Francesco che ha fatto questo passo importantissimo nella storia coscrivendo cofirmando un documento sappiamo tutti bene di fratellanza umana amicizia sociale cosiddetto documento di Abu Dhabi da questo punto di vista come possiamo vedere la responsabilità dei leader cristiani musulmani e per proprio promuovere della pace partendo dalla loro spiritualità come possono proprio dare un contributo in questo mondo anche ormai sempre molto secolarizzato come lei vede la possibilità di questo protagonismo interreligioso per promuovere una pace speriamo come perpetua mondiale grazie grazie allora com'è che si chiama come si pronuncia il tuo nome Senap Senap come Genap grazie come Genap ecco cosa vuol dire innanzitutto è un po' pesante vuol dire maestra signore quella cosa è il suo microfono spento adesso non la sento ecco adesso lo faccio ecco allora prima di tutto un chiarimento tu hai usato fratellanza però il chiarimento è che un conto è la fratellanza altro conto è la fraternità allora bisogna imparare a chiamare le cose con il loro nome e dov'è la differenza perché la fraternità è superiore alla fratellanza perché la fratellanza è orizzontale la fraternità è verticale cosa voglio dire che la fratellanza postula l'appartenenza di un gruppo di persone che possono essere anche milioni ad una stessa etnia ad una stessa credenza religioso ad una stessa visione di natura politica eccetera la fraternità che invece è verticale prescinde da questo cioè io ho un legame di fraternità con chiunque condivida la mia natura la natura umana perché pensa alla fratellanza anche durante il periodo dell'unione sovietica si parlava di fratellanza la fratellanza dei popoli sovieti dei popoli comunisti ed è vero però la fratellanza si estende ai confini degli appartenenti non si estende a chi sta fuori di quel confine la fraternità invece è universalista cioè tu puoi essere bello o brutto intelligente o no di un colore o l'altro ma in quanto essere umano sei lo stesso mio fratello perché essere fratelli vuol dire ammettere che c'è una comune paternità ecco allora che è bene ad esempio la masoneria loro parlano di fratellanza la fratellanza masonica e fra di loro hanno dei rapporti molto stretti si aiutano però se uno non è nella loggia tal dei tali questo non è più considerato nobile chiarito questo tu mi dici allora come i leader eh appunto questa è oggi la domanda molto infietante perché io sostengo a prescindere da questa tematica da tempo che nelle condizioni storiche di oggi le religioni potrebbero fare molto di più di quel che fa il fatto è che sono intimidite sono tra virgolette comprate magari in buona fede però questo è un fare io ho partecipato a diversi tavoli in cui ci di di negoziato interreligioso e vedevo che le persone i leader certi leader parlavano però non credevano a quello che dicevano e quando gli dicevo ma perché allora hai detto quelle cose eh dice perché perché altrimenti mi succedeva questo cioè il ricatto è questo e oggi il ricatto è quello di natura economico finanziaria io non è più il ricatto di una volta che era il ricatto delle armi basta che io ti tolga l'accesso ai fondi ai fondi finanziari che tu sei spacciato e allora se tu hai una responsabilità nei confronti del tuo popolo non puoi farli morire ecco perché io prima ho parlato che bisogna rifare le regole delle istituzioni internazionali e capisci adesso perché perché se ci fossero delle istituzioni internazionali i nomi gli esempi li ho fatti prima come come si deve è chiaro che questa capacità di ricatto scomparirebbe rimarrebbe qualcosa ma non più di tanto perché è l'istituzione che ti protegge oggi i paesi firmano gli accordi e chi è che li fa enforced chi le mette in enforcement il paese più forte perché il paese più forte ricatta quelli meno forti dicendo se tu non vieni sulla mia linea io non ti ammetto più a questi scambi e così via questo è il punto però da un punto di vista della comprensione del fenomeno oggi le religioni avrebbero un potere enorme soprattutto le tre religioni del libro tu sai che sono le tre religioni del libro appunto l'ebraica la musulmana e la cristiana se queste qui si unissero avrebbero però devo ammettere che loro stessi e me lo fanno capire i leader più di tanto più che fare invocazioni più che fare preghiere non riusciamo a fare perché altrimenti ci tolgono come si diceva una volta i viveri e questo non ce lo possiamo permettere però hai ragione perché oggi ci troviamo di fronte a delle situazioni in cui solo la potenza evocativa e profetica delle religioni può far superare quelle difficoltà c'è ancora una domanda o due tutto a posto buonasera professore ecco buonasera chi è? sono Gabriele Fabini Gabriele come stai? bene bene lei brutto disgraziato stai troppo bene tu vedi allora dimmi pure allora intanto la ringrazio per la bellissima relazione grazie volevo chiedere una cosa quando lei ha parlato dell'intelligenza artificiale perché come lei sa oggi c'è un programma che si chiama chat GPT che ha delle implicazioni enormi sia per il campo della didattica già adesso nel giornalismo molti articoli vengono fatti non da un diciamo da un essere umano ma direttamente da questa quindi vorrei un po' una sua opinione su come questo può evolvere anche nei rapporti tra le persone questa nuova app era stata anticipata già da da qualche tempo non è quindi una novità assoluta come si tende a far credere però è vero che la utilizzazione pratica è cominciata prima di Natale quindi un paio di mesi fa e da subito ha suscitato pensieri foschi soprattutto negli ambienti chiamiamoli della cultura sia scolastica universitaria che i trasmettitori di cultura perché c'è chi dice che è chiaro che si va avanti in questa maniera senza prendere posizione che senso ha studiare vedete la biblioteca che avete voi lì che sto vedendo è meglio che la bucchiate via perché non si arriverà più niente perché poi basta un affarino di quel tipo che racchiude dentro tutto quello che c'è in questa biblioteca che avrete mille duemila libri quello che sto vedendo e quindi il rischio quindi non è tanto quello che si paventa ma che soprattutto i giovani cessino di pensare perché noi sappiamo che il pensiero umano è legato ad una attività che si chiama ricerca noi come alleniamo il pensiero con la ricerca e come cosa vuol dire vuol dire stare con la testa sui libri andare a cercare apprenderli e confrontarli questo è il modo con cui da sempre allora la preoccupazione è che utilizzare questo strumento dispensa dal lavoro di ricerca che è sempre faticoso è vero che la ricerca ti dà grandi soddisfazioni però è anche faticoso come ben sappiamo e questo allora rappresenterebbe una realtà la risposta però a questo è venuta in tempi molto più recenti cioè due settimane fa che è quella invece di stabilire la cosiddetta ibridazione l'ibridazione tra come dicevo l'intelligenza biologica e l'intelligenza artificiale questa è la novità dell'ultima ora adesso in Italia non è ancora arrivata perché noi siamo sempre un po' ritardatari ma vedrete che prossimamente arriverà perché l'idea è quella di mettere dentro la corteccia frontale delle persone ovviamente quelle che la accettano ma vedrete che la accetteranno tutti io no perché intanto io sono vecchio vado a morire prima quindi per fortuna non ho di questi problemi di mettere una quella che si chiama un nanobot che è di dimensioni infinitesimali e si mette in maniera sotto la cute qui della fronteccia della corteccia frontale e in questo modo la intelligenza biologica cioè la nostra intelligenza naturale interagisce in tempo reale con l'intelligenza artificiale che ha una potenza computazionale enorme come ormai tutti sanno e allora in questo modo la persona umana può non correre il rischio di essere dominata dalla macchina perché è la persona che dà gli input all'intelligenza artificiale del tipo fammi questo fammi quest'altro cerca questo oppure reagisci in questa maniera cioè si verrebbe a creare una sorta di interazione allora se la domanda è si verificherà questo ah io non può mica posso saperlo perché però il fatto che sia già venuta fuori e già se ne parli è indicativo perché vuol dire che qualche sperimentazione è stata fatta nei laboratori in California dell'università della singolarità perché gli italiani non sanno ancora cos'è l'università della singolarità se Maritain fosse vivo lui lo saprebbe ve lo dico io perché lui era stato in America conosceva l'università della singolarità è nata nel 2008 in California ed è quella che studia tutte queste diavolerie qui tutte queste diavolerie vengono fuori da lì sapete e se leggete l'ultima dichiarazione di Ray Kurzweil che è il capo molto intelligente leggete la sua ultima dichiarazione di due settimane fa lui ha detto che entro il 2035 cioè vuol dire fra sette anni no un po' più dodici anni lui realizzerà quello che vi ho detto e quindi è chiaro che a questo punto lui dice non dovete temere quella preoccupazione di cui ho detto all'inizio perché avverrà che questi strumenti aumenteranno la capacità dell'intelligenza biologica a tal punto da renderla capace di dominare l'evoluzione tecnica allora a questo punto la domanda è ci dobbiamo credere a questo tizio o no? Kurzweil è a capo di un team di circa 200 super scienziati ma super super veramente bravi oppure non ci crediamo questo è il punto che vuol dire crediamo al progetto transumanista o ci vogliamo tenere noi il progetto neo umanista questo è il problema perché il progetto transumanista va in quella direzione il progetto neo umanista invece dice no dobbiamo prendere atto che l'umanesimo è una roba europea un'invezione europea noi dobbiamo aggiornarlo come si suol dire eccetera il punto però qual è? che mentre il progetto transumanista riceve una montagna di soldi quello neo umanista non prende soldi e quindi anche quegli istituti quei centri come il vostro non prende mai un soldo questo è il problema cioè quel progetto transumanista è altamente finanziato dalle grosse companies e corporation americani e quindi questo è il motivo per cui i leader religiosi evidentemente hanno molta paura in ambito cattolico il papa Francesco è molto preoccupato perché c'è questa nuova posizione che si chiama playing god playing god in inglese vuol dire giocare a essere dio perché l'obiettivo è fare a meno di dio che dio non serve allora provate a dire a un musulmano questo per vedere cosa cosa vi risponde cioè può anche esserci però non serve a niente perché è ridondante quello che attribuiamo a dio lo facciamo fare in questa maniera qua e a questo punto ti chiudono la bocca perché loro nel frattempo vanno avanti a fare sperimentazioni gli altri i neo umanisti invece non fanno una massa di niente perché anziché buttare i soldi nell'alta cultura li buttano nei consumi stupidi e quindi alla fine c'è il rischio che vincano loro davvero però dovremmo voi che siete di un centro culturale dovreste protestare su questo perché i centri culturali non vengono finanziati in Europa perché si finanziano le porcherie la colpa è vostra che dovete andare a spaccare la testa a Bruxelles questo è il punto perché gli americani sono quello che sono però loro sono furbi sono furbi all'università della singolarità gli passano qualcosa come 120 miliardi all'anno di soldi e quindi fanno tutte le sperimentazioni chiamano qua chiamano là e così via allora ragazzi io c'è altra domanda l'ultima e poi bisogna che saluti se c'è l'ultima domanda e tu Gennaro smettila di star lì a sfogliare i libri sono gli appunti sono gli appunti bene bene allora non so se ci sta ancora qualche altro altra domanda professore buon pomeriggio un'ultima domanda che va all'inizio della spiegazione del professor Zamanni la faccio io se possibile allora il professor Zamanni all'inizio che mi unisco al coro dei ringraziamenti tra l'altro all'inizio della della sua esposizione ha richiamato il concetto di costruire la pace credo che c'è rumore secondo scusate pronto non si sente più si non si sente è data via la voce Simone si scusi avevo l'audio disturbato adesso credo che si senta meglio si dicevo faccio questa domanda che diciamo va all'inizio delle considerazioni del professor Zamanni il professore aveva parlato di costruire la pace e lo aveva fatto con riferimento alla scrittura se non erro ora diciamo per rimanere in ambiente ecclesiastico a me è venuta in mente la considerazione che diciamo un altro personaggio di spicco della chiesa ha fatto in anni più recenti circa sempre il medesimo concetto che è quello di costruire la pace e io mi riferisco a Don Domino Bello ora diciamo la prospettiva di Don Domino Bello era quella di rivolgersi ai giovani cioè i giovani nella sua prospettiva sarebbero dovuti essere dei costruttori di pace lei diciamo volevo chiederle se condivide questa costruzione e in caso affermativo se secondo lei esiste una ricetta per far divenire giovani veri costruttori di pace grazie la risposta in questo caso a una domanda del genere è facile perché è evidente che da un punto di vista così naturale i primi ad essere interessati e uso la parola interessato in senso buono positivo in senso pieno alla pace sono i giovani per la semplice ragione che il loro orizzonte di vita è sufficientemente lungo da far capire loro che in caso contrario in caso cioè di un allargamento delle aree di guerra bellicene loro sarebbero i primi a rimetterci anche perché per essere ancora più banali chi va a combattere sono i giovani ma hai visto tu nelle prime linee o a guidare quegli accidenti di tanks eccetera le persone anziane quindi ma a far scendere da questo la vera prospettiva è che il giovane proprio perché è giovane non ha ancora interiorizzato quella concezione dell'interesse proprio dell'interesse individuale che è tipica di chi è già arrivato a occupare certe posizioni perché quando si parla dei signori della guerra non è che si parli a vanvera perché tu sai benissimo chi è che ha interesse a produrre le armi hanno interesse a produrre le armi e noi italiani ne produciamo tante come voi sapete non produciamo i tanks quello sono i tedeschi ma noi produciamo le mine produciamo le carabine produciamo le piccole mitraglie un sacco di quegli accidenti lì è chiaro che chi opera in quel settore ha tutto l'interesse a mantenere la situazione di guerra pensate quanto guadagnano adesso le imprese con questa guerra in Ucraina perché ogni missile sapeste voi quanto costa moltiplicato per il numero di quelli che vengono buttati e capite subito allora i giovani per definizione poiché non sono ancora in quella stanza dei bottoni sono meno preoccupati di questo di mantenere quelle posizioni di reddito e quindi più propensi ad avanzare ecco perché io premo perché venga dato più spazio e più considerazione ai giovani ecco perché prima ho parlato della seconda camera a livello delle Nazioni Unite adesso capite perché perché è chiaro che nelle varie organizzazioni i corpi intermedi della società organizzazioni della società civile che dir si voglia lì i giovani hanno possibilità di far sentire la loro voce e quindi di portarli in quelle sedi ecco perché non le vogliono perché gli altri ti dicono i giovani danno fastidio lo vedete anche nei movimenti ambientalisti i movimenti ambientalisti chi c'è sono soprattutto i giovani ma perché perché il giovane sa che se non si cambia fra 25 anni moriranno e fra 25 anni però loro sono ancora in una buona età per le ovvie ragioni e così via quindi per entrambe le ragioni occorre che l'assetto istituzionale non parliamo poi questo della politica qual è lo scandalo italiano che i politici che stanno in Parlamento al governo sono tutti vecchi dei bacucchi che sono anche intelligenti alcuni ma il problema qui non è solo di intelligenza o di razionalità il problema è quello della saggezza e quindi evidentemente il cerchio si chiude per cui occorrerebbe anche lì che si introduce una proposta che è stata avanzata ad esempio in certi ambienti è quella di con una legina fare in modo che nei consigli di amministrazione delle imprese di grande dimensione una quota venga riservata ai giovani dove giovani vuol dire quelli che hanno meno di 40 anni così come ci sono le quota rosa per le donne si faccia anche la quota giovani maschi o femmine che siano non importa in modo tale che nei consigli di amministrazione delle grandi imprese dove si prendono le decisioni strategiche se ci fossero questi giovani questi potrebbero non dico tutti ma almeno qualcuno piantare caos fare domande a volte anche imbarassanti per obbligare a cambiare la strategia d'azienda quindi questa è la linea verso la quale dobbiamo tendere e di cui bisogna parlare perché se mai se ne parla nessuno verrà mai in mente proposte tutto sommato semplici come queste da tra parte sono state fatte le quota rosa prima che venissero fatte nessuno ci pensava perché non si possono fare le quote giovani questo è il punto allora io adesso vi saluto è stato bello parlare con voi bisogna che vada perché adesso alle 5 devo fare lezioni all'università e quindi non è distante da dove abito però devo inforcare la bicicletta altrimenti non arrivo in tempo buon lavoro state in gioia comunque non abbiate paura che alla fine i buoni vincono sempre non dimenticate mai i buoni vincono sempre alla fine grazie 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 l'appuntamento per il prossimo mercoledì primo marzo sempre alle 16 sera vieni vieni per la sicurezza con il generale Alessandro Popoli che è il comando della guardia di finanze ufficiale di collegamento con il MEF grazie a tutti e buona serata grazie a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti